iscriviti al canale iscriviti al canale buon natale ciao io sono tedis e oggi ti darò il nuovo ospite sarà con me nei video di youtube kids paolo paoli new unboxing delle collezioni di pp new cioè il bimbo grande adulto saluta bimbo grande adulto ciao ciao a tutti sono io il bimbo grande adulto e cosa recensiremo bimbo grande adulto e c'è anche paolo paolo il cameraman oggi recensiremo il kinder sorpresa di natale 2021 la nuova serie la nuova collezione qua che si basa di 12 personaggi 100% sorprese natalissie dove abbiamo in anteprima l'arbero di natale la foca con le cuffie e babbo natale che saluta 100% sorprese natalissie scarica e gioca a play do con babbo natale che bello abbiamo trovato babbo natale e il pupazzo di neve dal retro della scatola troviamo babbo natale che saluta il pinguino che saluta babbo natale che corre e qua aggancia le sorprese e apri la spirale 1 ritalla la spirale attendi sorprese 2 aggancia le sorprese e 3 crea la tua decorazione con gli amici del natale dove c'è anche l'alberello la campanella e il cionene il fioco di neve va bene apriamo tutti gli otto ovetti se escono 1,2,3,4 e uno è andato esatto amici ho trovato la rena di natale quella rena di natale che ti ho fatto vedere nel post della community esatto esatto ecco babbo natale e il pupazzo di neve che sembra una femminuccia femminuccia guarda che carino lo possiamo tenerlo? si da conservare amici oh è aperto già uno yeee apriamolo lo apro io abbiamo il pinguino polaretoso vediamo cosa abbiamo trovato abbiamo trovato la rena e adesso aspetta di aprire gli altri oh faccio io faccio io oh cosa abbiamo trovato tedis babbo natale no non abbiamo trovato babbo natale abbiamo trovato una specie del pupazzo di neve una palla di neve sorrizzona e qua si può scaricare a play do scansionare i peli pupazzi ma ci sono due pupazzi di neve abbiamo l'orsacchiotto bianco nudo il il cervo che sembra somiglia molto a quello dei griffin il cervo alce la rena di natale il pinguino che saluta il fiocco di neve questo piccolo neve che abbiamo trovato babbo natale pupazzo di neve felice che voglio già trovarlo come ora che non ho trovato sclose in due la focca con le cuffie la campanella l'omino di pan di senso che fa la boccaccia l'arbero di natale felice e il cupcake ead rosso che serve la cioccolata a card abbiamo trovato questo abbiamo trovato il piccolo pupazzo di neve beh appenderei ci vuole un sacco di tempo però abbiamo trovato questa faccia qui ok non significa ok vabbè bimbo grande adulto grazie apri tu ieee apro io ok ecco l'ovetto ok vediamo cosa abbiamo trovato un pupazzo di neve abbiamo trovato esatto abbiamo trovato il pupazzo di neve che lo volevo trovare da tempo ci pieghi molti anni per te lo faccio vedere sorprese forza forza non c'è di tempo queste sorprese Kinder di oggi sono facili ma sono difficili Kinder sorpresa con il pupazzo di neve apriamo velocemente dai abbiamo trovato l'orso polare e qua abbiamo la freddo del pinguino abbiamo trovato l'orso polare le sorprese di oggi abbiamo trovato questo bambini vediamo l'altro vediamo che cosa abbiamo trovato l'omino di pan di zenzero che fa le boccacce guarda che bene il lomino di pan di zenzero così anche queste sorprese di natale sono complicate una sorpresa complice non complicata vediamo l'altra per fortuna abbiamo cinque pezzi del natale abbiamo trovato una foca con le cuffie ragazzi l'apritura del pinguino la foca con le cuffie questa si può non è una sorpresa troppo complicata invece si va beh abbiamo trovato la campanella giusto oh abbiamo trovato la prima doppia del 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 cervo di natale ok abbiamo trovato la prima doppia ne mancano due adesso ok noi ci impieghiamo molto tempo ci impieghiamo fino al video di cinque minuti tanti minuti ci sono oh il babbo natale vediamo che cosa abbiamo trovato abbiamo trovato anche babbo natale lo stesso oh abbiamo trovato babbo natale vai anche l'anno scorso abbiamo trovato mi sembra non me lo ricordo abbiamo trovato babbo natale beh babbo natale è facile noi adoriamo tutti babbo natale guarda che bello vuoi trovare una doppia di lui e abbiamo l'ultimo kinder sorpresa abbiamo trovato la campanella esatto non abbiamo trovato tutte le doppie abbiamo trovato guarda quello che ce ne apri giù la campanella abbiamo trovato abbiamo trovato otto pezzi e ci manca come personaggio ci manca il pinguino che saluta ci manca il fiocco di neve l'albero di natale e la cioccolata cioccolata vabbè te lo faccio vedere le sorprese già montate nel prossimo video di ritardo iscrivetevi al canale mettete mi piace e si addormentate il bimbo grande adulto mettete mi piace non mi piace e non commentate ragazzi perché è un video di youtube kids ciao li monteremo le sorprese di natale e vedrai che saranno come nuove a dopo o nei prossimi video di le collisioni di pp2 a dopo a dopo ciao 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 ciao